Tecnica americana Alta personalizzazione design italiano Con questo slogan la Dovi Boat da circa 15 anni ha conquistato il cuore di molti appassionati che amano andare per mare con un mezzo davvero unico come ad esempio quello che ho vicino a me sul quale anche i motori sono stati personalizzati E per saperne di più andiamo ad ascoltare il nostro Francesco Piras che in questo momento è con Stefano Cicala uno dei titolari di questa azienda Ed eccoci dallo stand Dovi Boat con Stefano Cicala uno dei titolari di questa azienda particolare che come ha detto la nostra italiana richiama anche un po' quello che è lo stile americano noi l'avevamo sempre notato Lo stile americano nella costruzione ma lo stile è tutto italiano Direi che però c'è questa Perché insomma richiamano anche quello che è quel famoso telefilm di azzard abbiamo visto che ha avuto molto successo Sono customizzazioni fatte dai nostri clienti che esprimono la loro fantasia sui nostri gommoni e noi gli permettiamo di farlo Perché questo appunto Dovi Boat da sempre è conosciuta come un'azienda che a differenza di tutto quello che oggi esiste nel panorama dell'offerta dei gommoni voi non fate un gommone uguale all'altro qua il cliente lo personalizza al 100% proprio anche nel renderlo unico Sì, cerchiamo di essere estranei alla massa come è il nostro motto Ripeto, noi trasformiamo le fantasie dei nostri clienti sui nostri battelli e quindi ci rendiamo unici esprimendo così la loro personalità sui nostri battelli Ecco che questo avviene per quanto riguarda l'allestimento della coperta dove si possono poi scegliere anche giochi cromatici particolari ma anche soluzioni che lo rendono unico Ovviamente lo stile americano era riferito poi invece alle tecniche di costruzione che sono le carene, l'opera viva Sì, lo stile americano era più mirato per quanto riguarda la carena poi tutto il resto, ripeto il design, lo stile è tutto quanto italiano che noi lo esprimiamo sia sul battello da 5,80 metri fino al battello di 15 metri Ecco perché ci dicevi che appunto voi partendo da un 5 metri quindi da un piccolo gommone che può essere l'entry level per iniziare a vivere il mare poi arrivate, diciamo, per quanto riguarda già la produzione effettuata arrivate sui 15 metri ma poi customizzando voi potete produrre qualsiasi mezzo il cliente volesse Possiamo produrre qualsiasi mezzo di qualsiasi metratura certamente i tempi che corrono oggi ci conviene essere lì sul nostro punto di forza che è il Natantone praticamente 9,99 fuori tutto dove la parvenza viene data pure dei tubolari che sono di diametro superiore rispetto ad altre case quindi sembrano dei mammoni mammoni belli anche da vedere così ci dice la gente così ci dicono i nostri clienti Mammoni belli da vedere e che danno poi quello che è la caratteristica di mezzi veloci come sono i vostri Sono mezzi abbastanza performanti e si fanno notare ecco quindi diamo bellezza qualità e soprattutto affidabilità del nostro prodotto Una delle cose che colpisce è proprio il colpo d'occhio si rimane colpiti da questi mezzi che sono veramente molto accattivanti anche le donne Sì le sfilate si fanno con vestiti eccentrici noi lo facciamo con i battelli quindi è giusto per far capire per far capire alla nostra clientela di cosa si tratta quindi signori a quella scelta Quindi insomma avete capito Dovibuot non è un cantiere qualsiasi non presentano la produzione di serie qua di serie c'è pochissimo esistono solo le tecniche di costruzione certo gli stampi delle carene lo studio le linee idrodinamiche quelle vengono riportate sulla varia vari modelli Ci sono un'equip di ingegneri e designer alle spalle non è fatto tutto quanto soltanto di brava mano d'opera ma ci sono anche comunque degli studi tecnici alle spalle di questi prodotti quindi ripeto noi diamo il tutto noi facciamo oltretutto ci occupiamo della nautica a 360 gradi dalla costruzione tubolari al rimessaggio all'assistenza quindi Dovi Boat è completa a 360 gradi Allora avvicinatevi a Dovi Boat per avere qualcosa che davvero vi distingue nessuno potrà dire assomiglia a qualcun altro perché sarà proprio il vostro gommone il vostro mezzo sul quale potete vivere sicuramente quello che è l'armonia l'emozione di vivere il mare ma anche di poter dire quando si entra poi in una marina in un porto tutti vedranno e noteranno quello che è uno stile un vestito su misura un vestito fatto per loro Estraneo alla massa Noi facciamo complimenti a Stefano e complimenti a tutta la Dovi Boat che regala ancora tante emozioni Ciao Stefano Ciao Francesco